c'è una grande iniziativa che state mettendo in campo inizio marzo e non è un giorno qualunque perché sarà il giorno dell'uscita di non fan payroll tipicamente c'è comunque volatilità avete individuato alcuni trader tra cui anche alcuni partecipanti di investv per fare del trading live in diretta ma la grandissima cosa è che sarà possibile per chi vorrà ovviamente operare sul proprio conto personale o con un conto demo con i certificati fontobel e vedere proprio magari seguire il proprio trader preferito o anche andare in contrapposizione se non si pensa corretta ma ecco sarà l'occasione davvero per capire vantaggi svantaggi strategie che si possono attuare ad esempio le specificità tra una leva fissa e una turbos per chi vuole operare sul fronte pure intraday piuttosto che magari vuole tenersi a posizione multiday bellissima come iniziativa assolutamente ci abbiamo lavorato con convinzione ce l'abbiamo fatta e ecco lo scopo è proprio quello di creare un momento di incontro tra tutti gli appassionati di trading ovviamente purtroppo i posti sono limitati quindi ovviamente invito tutti ad iscriversi il prima possibile quando avremo il link ve lo faremo sapere tramite i nostri canali e tramite anche il supporto di partner esterni ma lo saprete sicuramente quindi affrettatevi ad iscrivervi quando ci sarà l'occasione ma sì volevamo creare un momento di ritrovo tra trader di qualsiasi provenienza e i migliori trader in italia sappiamo che all'interno del format di invest in v abbiamo alcuni dei migliori trader nel panorama italiano nello specifico ci saranno il mago toni scioli pubiani nicola para sarà con noi anche luca di scacciati e un ospite speciale che è riccardo zanetti che più di recente si è iniziato ad interessare anche degli aspetti dei mercati finanziari ma quindi sarà un grande evento dove sarà possibile andare a capire entrare nella mente di trader professionisti vedere la loro operatività dal vivo andarli a seguire o sfidare in base a quelle che sono le proprie idee grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti